La signora Grazia qui allo stand di Monacella e Arredamenti. La tendenza è il moderno, il bianco, i colori bianco e nero, l'arredamento colorato, soprattutto moderno. Questo letto qua, come possiamo vedere, è in pelle bianca, quindi il colore lo rende modernissimo, però con il capitone così gli dà quel tocco di classico. Poi è abbinato a un comune in legno moderno o può essere abbinato a un comune in legno classico. È un letto che sta bene sia con il classico che con il moderno.